Molti di voi mi hanno chiesto come faccio ad avere un fondo bianco in molti miei video Ecco la risposta Che sorpresa, è un muro, muro, muro Io quando devo fare un video levo il divano Fatica, molta fatica, molta fatica, molta molta fatica Tolgo il divano e mi riprendo L'unico problema di questo sfondo bianco è che è un po' troppo stretto Di conseguenza ho deciso di raccontarvi come costruisco questo mio nuovo fondo bianco più grande Prima cosa, vestirsi di merda Ok, fatto questo scendiamo in un garage Ok, a questo punto visto che siete vestiti di merda siete pronti per costruire il vostro muro bianco Questo è il muro del mio garage Ora guardate Ciò di cui avete bisogno è una scala Un secchio di vernice Un secchio vuoto Un pennello E una parete A questo punto dobbiamo semplicemente scartavetrare Ora che abbiamo scartavetrato dobbiamo verniciare Quindi a questo punto vernice Mergola Secondo giorno Seconda mano Seconda mano E quindi in sostanza alla fine Vernicia, vernicia, scartavetra, strucca, scartavetra, vernicia Questo è il risultato C'è le verde che ci stanno i banchi Questa è un'altra cosa Devo girare una cosa io Però bello eh Vico Quindi odio tutti Odio tutti Fammi culo Grazie a tutti Grazie a tutti